Benvenuti a questa partita di Sbordone League tra Paris-San Gennaro, gran gol di Marco Pesce per il Paris-San Gennaro. Gol di Marco Pesce. Attenzione, contestazione per il gol. Sì, è entrato, è entrato. Tani, quanto stanno? 3-2. 3-2 per il Borussia Dortmund. Attenzione, prova il tiro. Sannino, Ermutanda, palla lunga per Esposito che non ci arriva. Membrini alla battuta, palla per Nicolosi. Nicolosi è passato nel giovanile del Polenatrocchia che purtroppo non l'ha portato in prima squadra ed è costretto a giocare qui in Sbordone League. Sannino, palla per Esposito. Ancora Esposito, prova a scendere palla al piede. Numero. Ecco, Daniele Napoletano. Palla direttamente al portiere. Sannino, palla per Esposito e prova a controllare. Ancora Napoletano. Prova il tiro! Proprio lui! Incredibile! Arbitra. D'Alessandro. Dal Ponzi Bombi direttamente. Attenzione, palla dentro di testa, Rt! Drogba! Incredibile! Ma che Rt ha fatto? Quattro a due! Danilo. Ma sta segnando i gol, i nomi. I nomi dei gol. Attenzione, Napoletano. Prova il tiro. Per Nicolosi, fallo su Nicolosi. Popo Sammoni. Danilo, per il tempo lo sei portato tu. Te lo chiamo io. Te lo chiamo io. Nicolosi. Per Membrini. Prova il numero. Membrini, scende palla al piede. Ancora Membrini. Prova il tiro. Sannino superparata. Superparata di Sannino. Esposito. Intercetta Nicolosi. Nicolosi numero. Ancora tunnel. Incredibile. Prova il tiro. È rimessa. Ma come? L'ha toccata? Non l'ha toccata. L'ha toccata? L'ha toccata, io. L'ha toccata. Membrini. Ancora palla dentro, si gira bene. Che incredibile. Malfitano. Membrini. Prova scendere palla al piede. Ancora il numero 11 del Borussia. Prova il tiro. Sannino. Calcio d'angolo Borussia. Palla dentro. Prova di metterla dentro. Copre bene Pesce. Pesce parla per Malfitano. Malfitano. Calcio di punizione per il Paris Saint-Gennaro. Malfitano. Spedisce fuori. Passa. 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 Passa là. Attenzione. Ancora lui scende palla al piede. Nicolosi. Palla dentro. Napoletano. Direttamente sul fondo. Nicolosi. Membrini. Ancora lui palla al piede. Non si fa sorprendere Sannino. Dalla doppia deviazione. Non aggancia. Esposito. Che era anche super marcato. Ancora Membrini. Membrini. Palla. Dentro prova a tirare. Ecco Nicolosi che la fa uscire. Palla dentro. Su Pesce che ributta in... Fallo laterale. Come Membrini. Ancora il numero. Vantaggi. 1-8-11-1-1-2-3-4-4-5-5-5-5-6-5-5-5-6-5-5-6-5-7-6-5-5-6-5-6-7. 2-8-7-7-5-7-6-6-5-6-5-6-6-5-6-7-6-6-6-7-7-5-6-5-6-6-6-6-6-7-6-7-7-7. Calcio di punizione per il Borussia Dortmund Prova il tiro di esterno Sballato completamente Sanlino Sbaglia il lancio Partita che si è un po' spenta Membrini Palla ancora per Nicolosi Può scendere palla a piede ma si fa fermare da esposito Parisa e Gennaro ricordiamo Orfano di Lanza Nicolosi Ancora Nicolosi prova dentro La palla filtra ma c'è Sanlino Ancora Napoletano Napoletano scende palla a piede Prova il tiro palo incredibile C'è ancora esposito il portiere non c'è Grandissima parata del portiere del Borussia Dortmund Ricordiamo di Borussia invece Te lo chiamano Carlo Te lo chiamano Carlo Quanto manca Carlo? Quanto sei di video? Sette C'è ancora la palla del Borussia Nicolosi Rimessa laterale Di buon cammino che gol che sta facendo Che prestazione? 5 a 2 per il Borussia Dortmund Marfitano Prova la botta ma c'è la respinta De la barriera Borussia Marfitano prova il tiro Nicolosi Membrini Ancora Nicolosi Prova il lancio filtrante Sulla ripartenza Non riesce il Paris Saint-Gennaro A pungere Rimessa laterale Paris Saint-Gennaro Che può approfittare di questa Grazie Grazie